gli sviluppi di questa azione Adeleche, Mancini poi all'indietro per Piva, pronto a crossare Piva, pallone al centro Vavassoni esce a vuoto, la palla rimane lì Gustavo, Gustavo, Gustavo traversa e poi la palla pulisce in porta è gol, è gol, è gol la Salernitana 2, Profatri a 0 amici sportivi e le mani della Salernitana sulla Coppa Antonio, il sospetto che non si possa parlare di gol di Gustavo nel senso che il difensore il numero 2 Botturi era riuscito a respingere il pallonetto di Gustavo con il destro, aveva colpito di testa e la palla era schizzata sulla traversa e Nossa credo sia l'autore dell'autorete Sì, è il pasticcio della coppia di centrali con Polverini che si è praticamente ha buttato il pallone in porta ma insomma, lo diamo a Gustavo che poi viene anche ammonito per l'esultanza il brasiliano, l'italo-brasiliano Gustavo Salernitana 2 Propatria 0 che pasticcio commesso da Vavasori e chissà cosa sta pensando Firicano di questo avvicendolo di questo avvicendolo